Salve, sono Lorenzo Riezza, ho 25 anni, sono andato a Roma e attualmente frequento la facoltà di sociologia all'Università della Sapienza. La mia più grande ambizione è lavorare nel settore giornalistico, infatti già collaboro con alcune testate giornalistiche locali in cui mi occupo di cultura e sport. Da due anni con alcuni amici ho fondato un'associazione che si chiama Giù la Barriera, che si occupa di progetti sociali come cineforum, bioterapy, sport integrato e corsi di spagnolo di base. Mi piace stare in group, infatti gioco come stick in una squadra di wheelchair hockey a livello nazionale. La mia più grande passione è la musica, che ascolto e compongo di tanto in tanto. Ah, dimenticavo, sono di Sabine. Grazie a tutti.